Una buona serata a tutti da Marco. L'anticiclone ha riconquistato buona parte dell'Europa ed anche del Mediterraneo, ma un impulso freddo proveniente dal nord atlantico sta puntando verso la penisola iberica, dove determinerà forte maltempo che nel fine settimana prossimo potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola. In Abruzzo, anche nella giornata di domani, il tempo risulterà poco nuvoloso a tratti regolarmente nuvoloso in tutti i settori, presenti banchi di nebbia sulle conche aquilane nella notte al primo mattino. La ventilazione sarà debole di direzione variabile sulle zone interne e di tramontana su quelle costieri, il mare sempre poco mosso. Per quanto riguarda le temperature rimarranno stazionarie, con le minime della prossima notte comprese tra 2 e 9 gradi e le massime di domani tra 10 e 14 gradi. Per la meta è tutto, buon proseguimento di serata.